Ben trovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giacquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite di oggi è Carlo Ghiglietti, esperto di economia circolare, imprenditore e autore del podcast Pensa Circolare. Ciao Carlo, grazie per essere qui con noi. Ciao Michele, ciao Giacomo e grazie a voi per l'invito. Benissimo, prima di iniziare una comunicazione di servizio per i nostri ascoltatori, che so già verrà accolta in maniera impopolare. Non spegnere la luce, va in vacanza. Ebbene sì, il podcast si prende una pausa estiva, non tanto perché io e Giacomo vogliamo stare a mollo nel mare pugliese, bensì perché il sottoscritto sta per trasferirsi negli Stati Uniti e quindi approfitterò del caldo di agosto per trovare casa lì e per organizzare le idee per la stagione 2.0 del podcast. E comunque, in ogni caso, non disperate perché torneremo a fine agosto e nel frattempo potremo tenerci in contatto tramite il nostro favoloso gruppo Telegram. Se vuoi farne parte anche tu e scoprire le anteprime sulla prossima stagione, trovi il link per iscriverti in fondo alla descrizione di questo episodio. Ma bando alle ciance perché nella puntata di questa settimana parleremo di un serial killer silenzioso, un killer che uccide più di 120.000 persone ogni anno nel mondo, praticamente una ogni 5 minuti. Sto parlando, come avrete già capito, dell'amianto, una sostanza altamente tossica che fu portata in Italia da Eternit, un'azienda edilizia di proprietà svizzera che nei primi del Novecento aprì i suoi stabilimenti a Casale Monferrato, in Lombardia e a Bari, quando ancora non si conosceva la pericolosità di questo materiale. Inizia così una lunga serie di morti bianche che caratterizzò tutta la seconda metà del secolo, fino agli anni 90. Giacomo, ti va di raccontarci la parabola dell'amianto Eternit? Grazie Michele, grazie a tutti gli amici di Non spegnere la luce, a tutti coloro che ci stanno seguendo sul gruppo Telegramma siete tantissimi e io vi ringrazio da parte mia uno a uno già per il semplice fatto che mi sopportiate per tutti questi minuti. Inoltre grazie a tutti coloro che hanno seguito questa prima stagione. Diceva Michele che noi andiamo in vacanza, ma non al mare, anche perché io non sono un grande fan del mare. Preferisco sia le zone lagunari sia la montagna, infatti le mie vacanze sono sempre lì. Ma torniamo all'argomento del giorno, ovvero l'Eternit, quando nasce nel 1901 da un austriaco che è Ludwig Ascheck che brevetta il cemento amianto, un materiale a cui dà proprio il nome di Eternit che riprende dal latino dalla parola Eternitas, che vuol dire eternità, per rimarcarne la sua celebre l'esistenza e la sua capacità di persistere alle interperie. Solo un anno successivo Alois Steinman acquista la licenza per l'Eternit e apre nel 1903 una fabbrica dal nome difficilissimo ma ho studiato per poterlo dire meglio, la Juenze Rischke Eterneujerke AG. L'Eternit guadagna in poco tempo una grossa popolarità e nel 1911 arrivano le prime produzioni di lastre e tegole che sfruttano appieno le capacità da catena di montaggio proprio di questo materiale. Solo nel 1928 però incomincia la produzione. Una delle più importanti è che ci porteremo avanti per tanto tempo, ovvero quella dei tubi in fibro cemento che fino agli anni 70 rappresentavano la base con cui costruire gli acquedotti. Nel 1933 invece compaiono le lastre ondulate che saranno un altro dei marchi di fabbrica della Eternit e venivano usate spesso proprio partetti e capannoni. Poi arriva la Fibronit di Bari della mia città natale nel 1935 mentre nel 1938 segnatevi questa data perché arriva la fabbrica di amianto cemento nel quartiere di Bagnoli a Napoli. L'Eternit a un certo punto, in particolare tra gli anni 40 e 50 diventa di uso comune, c'è il famoso caso di Willy Gall che disegnò grazie a esso una sedia da spiaggia e nel 1963 l'Eternit comincia a essere prodotto anche da un punto di vista estetico seguendo diverse colorazioni. Successivamente si sviluppa a Siracusa, in Sicilia, l'Eternit siciliana che venne chiuso nel 1993. Aprirono altri stabilimenti per esempio a Casale Monferrato, a Reggio Emilia, a Pavia, quello di Bari l'abbiamo già nominato, ma arriviamo a un'altra data, quella del 1985 in cui chiude la fabbrica di Bagnoli e nell'89 arriva una prima fase di bonifica con il 1994 come deadline dove l'ultimo tubo che conteneva asbesto abbandona la fabbrica. Ma in realtà è negli anni 60 che le ricerche mostrarono come la polvere di amianto che veniva generata dall'usura dei tetti e veniva utilizzata come materiale per i selciati provocasse una gravissima forma di cancro, il mesotelioma pleurico. Nonostante questo, nonostante voi direte che cosa sarà successo, li avranno chiusi dopo i primi studi? No, perché l'Eternit e la Fibronit continuarono a produrre manufatti sino al 1986 con conseguenze tremende per la salute degli operai. Considerate che per esempio a Casale Monferrato, da qui è tratto un film, ma ve ne parlerò anche più avanti durante il nostro momento dedicato al cinema. Lo stabilimento rilasciava la polvere di amianto nell'ambiente circostante, ma considerate che la malattia esso derivata ha un periodo di incubazione di circa 30 anni, quindi quelli che erano lì negli anni 80 ad oggi rischiano ancora. Infatti tra il 2009 e il 2011 sono stati registrati più di un centinaio di casi, mentre nella semplice provincia di Alessandria 1.800 morti per esposizione ad amianto. E nonostante gli anni Sessanta sembrino così lontani, solo nel 2009 ci furono delle vere e proprie indagini, condotte da Raffaele Guarinello presso il Tribunale di Torino, che danno inizio a un processo contro Stefan Schmidney, che era l'ex presidente del Consiglio di Amministrazione, contro Louis Descartes de Marquion, che era il direttore dell'azienda negli anni Sessanta. Entrambi sono ritenuti responsabili di tutte le morti per mesotelioma avvenute tra i dipendenti delle fabbriche Ethernet, che erano entrati in contatto con l'asbesto. Nonostante il 13 febbraio del 2012 il Tribunale condanne in primo grado i nostri due protagonisti, 16 anni, sembrano tanti ma in realtà non lo sono, per disastro ambientale doloso, e già questo sarebbe gravissimo ma il disastro è permanente, nonostante questo la frase, il momento con cui voglio chiudere questo escursus, fa quasi rabbrividire. Io lo leggo testuale, non aggiungo nulla perché di solito nelle narrazioni si aggiunge sempre magari i protagonisti, magari il contesto. No, leggo così, come se io fossi un cronista. Il 19 novembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione dichiara prescritto il reato di disastro ambientale, annullando le condanne e i risarcimenti in favore delle parti civili. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Grazie Giacomo. Adesso vorrei tornare dal nostro ospite perché, da quello che sappiamo, Carlo, pare che già ai tempi della Germania nazista si conoscesse la pericolosità dell'Eternit. Perché allora si è continuato ad utilizzarlo come materiale da costruzione? Allora Michele, l'Eternit, al di là del suo aspetto fisico, che noi lo conosciamo tutti come materiale per l'edilizia, queste famose lastre ondulate. In realtà l'amianto in sé, noi sappiamo che l'amianto è comunque un prodotto naturale, deriva da una roccia. Noi in Italia abbiamo tante miniere di serpentino, che è il nome della roccia che dà origine poi all'amianto. E quindi veniva utilizzato non solo per quanto riguarda la parte edile, ma veniva utilizzato in tantissimi altri usi. Immaginatevi le fibre di amianto che venivano utilizzate nei guanti degli operai degli altiforni, perché resistevano a temperature molto alte. Immaginatevi queste applicazioni con l'amianto che poi veniva utilizzato, spruzzato per a coinventare i muri, i controsoffitti. Noi troviamo ancora adesso dei controsoffitti, purtroppo anche nelle scuole, e noi abbiamo una... io vivo vicino a Milano, proprio nel 2020, che sono state scoperte nelle scuole dei controsoffitti spruzzati di amianto, che col tempo si rilasciano e liberano fibre. Per cui questo materiale era conosciuto perché era molto facile da trovare in natura, quindi dal serpentino veniva lavorato per produrre polvere di amianto, che come ti dico veniva utilizzato per tantissimi usi. L'ultimo e quello più, insomma, riconosciuto è quello delle lastre in Ethernet, che in realtà erano lastre in Ethernet, poi l'avete ricordato anche voi, anche tubi in Ethernet, che fino a un paio di decenni fa erano utilizzati per gli impianti di acqua potabile, e quindi erano... era molto... era molto, come dire... come dice lo stesso nome, Ethernet... era molto eterno, era molto resistente, era molto facile da trovare e facile da utilizzare. e veniva... veniva... ed era riconosciuto proprio per quello, per cui... il fatto che poi l'Eternet, scusatemi, l'amianto, avesse delle implicazioni sulla salute delle persone... Mi fermo un attimo, c'è differenza tra l'amianto e l'Eternet? Cioè diventa quasi una figura retorica, la marca, per dire il materiale, o c'è una componentistica diversa? No, allora, quando noi parliamo di amianto, lo associamo sempre all'Eternet, perché è il nome commerciale che più di tutti c'è rimasto nella testa quando sono usciti i problemi legati all'amianto. ehm... di amianto ce ne sono tanti... ehm... ce ne sono di vari tipi... ehm... c'è la crocidolite... ehm... c'è un altro... ce ne sono di tre tipi. Ecco, perché... perché, Carlo, anche la mia scuola, il mio liceo, era un palazzo antico, risalente a metà dell'Ottocento, che poi fu riadattato, ehm... un secolo dopo, a edificio scolastico, e era risaputo che nei muri ci fosse, ehm... l'amianto. Però io ho sempre avuto molta difficoltà ad immaginarmelo come materiale, cioè so che è tipo blu, però... come è fatta? Come è fatta una lastra di amianto? Non è eh... esattamente di tipo blu. C'è una tipologia di amianto, che è blu, che ha le fibre molto lunghe, e viene utilizzata, ed è stata utilizzata per costruire eh... l'eternit vero e proprio, queste... queste lastre ondulate e i tubi. In realtà ci sono altri tre tipi di... di amianto, che sono molto più pericolosi, perché sono più fini. Immaginatevi che il mesotelioma pleurico, che è il... ehm... quello che ha causato più vittime di tutti, è un... è causato proprio dal fatto che le fibre inalate si conficano nei polmoni, negli alveoli polmonari, e... ehm... attaccandosi, creano eh... disturbi, creano calli, creano tutta una serie di... ehm... eventi successivi che poi portano al proprio al cancro del polmone. ma non c'è solamente il mesotelioma pleurico. Il mesotelioma pleurico è quello che ha causato moltissimi morti, ma un'altra malattia che ha ehm... è come dire... è colpito il personale che lavorava nelle fabbriche di amianto, è l'asbestosi, che è una malattia cronica dell'apparato respiratorio, dove non si muore, però c'è una grave invalidità nel tempo, perché le persone fanno fatica a respirare. E quindi... e questi sono causati dalle fibre che si liberano nell'aria. Voi immaginatevi, negli anni sessanta, quando gli operai lavoravano eh... nella fibronit. La fibronit c'è a Napoli, avete ricordato, c'è ovviamente a Bari, c'è anche a Broni, vicino a casa mia, in provincia di Pavia. E eh... queste persone lavoravano a cielo aperto praticamente, arrivavano i sacchi di materiale, bianco, eh... polverulento, che loro eh... poi dovevano miscelare con il cemento, ma nel momento degli spostamenti, eh... immaginatevi le nuvole, le nuvole di... di questo materiale che si sollevavano. E loro lo respiravano. Non avevano eh... dispositivi di protezione personale, come le maschere e gli occhiali. Ehm... Tra l'altro, tra l'altro, Carlo, è un tipo di materiale, un tipo di polvere sottile, chiamiamola così, che eh... non... non riesce ad essere smaltita in nessun modo dal corpo umano, dal nostro sistema. Allora... E quindi... e quindi è come se si depositasse come la sabbia di una clessidra all'interno dei nostri polmoni. Per rendere l'idea per i nostri ascoltatori, perché mi rendo conto che sia molto molto difficile da immaginare una cosa del genere. L'ho detto prima, lo è... lo è stato anche per me, prima che studiassi per questa intervista. Quindi per questo ti ho chiesto prima come... come possibile... come è il modo migliore per immaginarci l'amianto? E soprattutto è una cosa che si può riconoscere anche ad occhio nudo? No. No. Allora, l'unico modo per riconoscerle una fibra di amianto ad occhio nudo è quando... se voi avete la possibilità di andare su un tetto e vedere... un tetto che è formato dall'astro di Eternit che non sono proprio eterne perché i cambiamenti climatici adesso, ma le piogge acide di qualche anno fa e anche adesso... vanno a disintegrare il legante delle fibre, che è il cemento. E quindi voi vedete nelle... nei pluviali delle... nelle canaline di scollo dell'acqua dei tetti vedete dei... come dire... dei residui che con la luce diventano azzurronioli. Ecco, quelle lì sono le fibre di amianto ed è l'unico modo per vederle, questo. Mentre gli altri sono talmente fini che miscelati a cemento o ad altri materiali vengono addirittura spruzzati, proprio spruzzati sui muri e sulle pareti perché avevano un effetto di isolante. E quindi non ve lo immaginate. Voi mi immaginate... avete presente la consistenza di un controsoffitto? Di un... sì, di un controsoffitto... Una lastra, quindi. Sì, una lastra. Di quelli che però, quando andate lì col dito, gli lasciate l'impronta dentro se premete un po' forte. Ok? Immaginatevi i pannelli, quelli per fare le divisioni delle camere, mi scugge il nome, i pannelli premontati che... Cartongesso? Cartongesso, ecco. Ovviamente adesso non c'è più l'amianto, ma il cartongesso all'inizio, vent'anni fa, veniva fatto con anche l'amianto spruzzato. E quando mettavate... cioè, si metteva il dito e si spingeva, rimaneva l'incavo. Ecco. Ad occhio nudo è difficilissimo, cioè non è impossibile. Quindi una roba super fragile, mi stai dicendo, tra l'altro. Ma... sì, perché spruzzato diventa super fragile. Ma noi lo troviamo spruzzato anche sulle tubazioni delle caldaie industriali. Quando io andavo a fare le bonifiche delle industrie, una parte molto complicata su cui intervenire erano proprio i tubi che erano collegati alle caldaie, perché dovevano tenere il calore ed erano proprio coibentati con un bel due centimetri di miscela di questi... di cemento e di questo amianto molto fine. E allora Carlo, la domanda che mi viene spontanea è perché anche di fronte all'evidenza portata dalla concentrazione in determinate aree d'Italia di patologie specifiche, come abbiamo detto già, l'asbestosi e ancora peggio il mesotelioma. Perché ci si è messo così tanto a riconoscere il problema? Allora, per come la vedo io, era proprio... era un problema legato alla convenienza. Era solamente un problema legato alla convenienza. Perché conveniva, era facile, come dicevo prima, era facile da reperire l'amianto. Era stato spacciato come eterno, era stato utilizzato davvero in tantissimi usi ed era conveniente utilizzarlo, era conveniente, per cui conveniva utilizzare l'eternit piuttosto che l'amianto spruzzato, piuttosto che le fibre nel tessile perché, come dicevo prima, veniva utilizzato anche nel tessile perché era molto facile da utilizzare. Dopodiché noi abbiamo nella storia ambientale e industriale sia italiana che di altri paesi non solo per l'eternit ma anche per altri, tantissimi altri contaminanti nocivi questa sorta di convenienza e noi abbiamo chiuso gli occhi ci siamo tappati il naso, chiuso gli occhi e chiuso la bocca e abbiamo fatto sì che questo scempio andasse avanti. Anche perché per chi non era esperto immagino che fosse molto difficile riconoscere questa minaccia invisibile perché appunto... No, era impossibile, era impossibile Michele immagina che nei dati che prima Giacomo raccontava immaginatevi che molte delle morti di misantelioma pleurico sono state a carico delle mogli degli operai e uno si chiede ma perché? Semplicemente perché gli operai tornavano a casa con le tute da lavoro sporche piene di fibre le moglie le lavavano e si contaminavano quindi è un materiale che è invisibile se tu non sai che c'è è invisibile come lo sono una miriade di contaminanti in giro chimici che ci sono se non lo sai che c'è è difficile anche capire come trovarli e capire soprattutto i rischi che stai correndo assolutamente io penso... tu hai citato le mogli degli operai Giacomo prima ha citato anche le persone che vivevano attorno a quegli stabilimenti e noi a Bari ne sappiamo qualcosa perché per 30 anni c'è stato un cantiere chiuso adesso finalmente sono stati bonificati quegli edifici da qualche anno a questa parte e sorgerà un parco per cui c'è un progetto europeo di 14 milioni di euro però ecco è soltanto grazie anche grazie a causa di casi esterni agli operai che lavoravano dentro quelle fabbriche che si è accesa veramente una luce e con la legge numero 275 del 1992 viene finalmente bandito dal commercio l'amianto rimaneva però il problema della bonifica di tutti gli edifici già esistenti e io immagino che questa sia stata sia stato un problema enorme assolutamente come si è svolta questa bonifica di massa? allora assolutamente uno dei problemi più grandi per bonificare l'amianto quando si trova ovviamente perché per esempio oggi quando si studiano tutti i processi di decommissioning di vecchie industrie è uno dei delle priorità assolute quello di andare a trovare parti di impianto dove poteva esserci l'amianto e vi assicuro che ce ne sono tantissime immaginatevi prima vi ho fatto l'esempio della co-inventazione dei tubi dell'aria calda o dell'acqua calda ma immaginatevi in un petrolchimico in un'azienda comunque in una fabbrica le guarnizioni tra due flange di tubazioni veniva utilizzata l'amianto e quindi immaginatevi che bisogna andare a cercare esattamente dove poteva essere l'amianto per andare ad isolarlo e a toglierlo in sicurezza cosa vuol dire isolarlo vuol dire che per fare la bonifica ve la faccio più semplice poi vi faccio l'esempio di volla che è un perché l'ho l'ho vissuto l'ho fatto per togliere una co-inventazione di cinque metri di una tubazione che porta acqua calda o aria calda non è che si può andare con il martello pneumatico e spaccarla perché rilascerebbe fibre e gli operai che ci stanno lavorando si contaminerebbero quindi immaginatevi che bisogna creare una sorta di locale isolato in aspirazione continua perché le fibre l'aria all'interno deve essere sempre aspirata all'esterno l'aria aspirata all'esterno deve passare attraverso filtri assoluti che trattengono le fibre le possibili le potenziali fibre e il materiale deve essere fissato quello staccato deve essere fissato in modo che non rilasci più e messo in appositi contenitori ecco immaginatevi quanto tempo quanti costi servono per fare questo tipo di bonifiche infatti mi sembra un processo complicatissimo e immagino anche costosissimo assolutamente immagina di bonificare una fabbrica che faceva l'eternet e a parte il singolo intervento però che tu ci hai descritto adesso e poi entreremo anche nel dettaglio quello che mi sto immaginando io come si fa a cancellare 30 40 anni di edifici costruiti con l'amianto allora in questo momento la politica dopo gli anni 60 dopo che sono state chiusi le fabbriche di amianto si è cercato di andare a bonificare tutto quello che poteva essere stato creato con amianto e quindi sono iniziate nelle scuole le bonifiche come vi dicevo dei controsoffitti il lileolium quello quello che c'era per terra nelle palestre per esempio conteneva amianto è stato rimosso completamente quindi si è cercato di andare a trovare tutto ciò che era stato potenzialmente fatto da amianto e bonificato e questo è è stato fatto e è ancora in corso questa cosa perché se voi vedete ci sono ancora tantissimi tetti in Ethernet che devono essere bonificati ma i costi sono troppo alti e c'è un grande problema di materiale dove lo metto questo materiale una volta che viene rimosso e sì mi ricordo i servizi a striscia la notizia quando ero ancora piccolino di brumotti che andava sui tetti dell'Eternit infatti di Eternit ma questo mi sembra un problema veramente difficile da risolvere perché anche solo mappare tutti questi edifici è stato è stato fatto Michene il il vecchio ministero dell'ambiente quello che è oggi è quello della transizione economica l'ha fatta negli anni 90 una mappatura è stato mappato quindi tutti quelli che avevano tetti in Eternit dovevano fare un'autocertificazione e dovevano comunicare come procedevano alla rimozione oppure al fissaggio perché perché se le 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 lastre erano ritenute ancora in buono stato bastava fissare con apposito prodotto le lastre affinché non rilasciassero anche se la pioggia acida li li decomponeva e tutto questo è stato fatto il problema nostro è che noi abbiamo come Italia ma non solo sulla parte amianto ma anche su tutta le varie aree contaminate è che hanno costi molto alti e quindi ancora oggi proviamo a quantificarli questi costi giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori penso che siano centinaia di migliaia di di milioni di euro cioè non non si può quantificare a livello a livello nazionale quanto è il costo ma posso buttarla lì almeno 4 miliardi di euro di bonifica e invece per una singola bonifica qual è di solito il costo medio per una singola bonifica dipende da da come da come grande se io dovesse andare a fare una bonifica di un impianto di 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 una caldaia di una di una grande fabbrica fra l'attività di preparazione quella che vi spiegavo prima di confinamento dell'area su cui intervenire all'azione proprio di di bonifica allo smaltimento di questo materiale penso che un solo una sola caldaia non costa meno di 150 mila euro quindi tantissimo avete presente di quanto di quanto stiamo parlando si 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 raccontaci la tua esperienza diretta con la bonifica ma la mia guarda la mia esperienza diretta io ho lavorato per molti anni allora io fino al 2015 mi occupavo di progettazione di di bonifica ambientale quindi risanamento solo sotto suolo acqua acqua di acqua e ho avuto tantissime esperienze di decommissioning di aziende di vecchie industrie e quello che come vi dicevo prima quello che era la priorità assoluta era quello di andare perché faccio un passo indietro il decommissioning di una di una vecchia vecchio sito industriale è molto ma molto ma molto più complicato della progettazione iniziale perché se voi pensate oltre che a smontare ciò che quello ciò che è stato montato deve essere anche bonificato pulito e reso accessibile per lo smaltimento immaginatevi i piping che portavano chissà che cosa dove devono essere puliti bonificati per mandare poi alla parte ferro e quindi è molto molto la progettazione è molto complessa e ci sono degli specialisti davvero bravi tant'è che ci sono degli specialisti che si occupano solo ed esclusivamente della parte amianto perché è talmente complicato ed è talmente difficile da trovare che ci vogliono degli esperti che vanno a fare dei campionamenti e vanno a proprio a cercare dove poterlo trovare e a questo punto io ti faccio questa domanda ma più una riflessione personale cioè si sapeva già da tempo che era un materiale pericoloso a confronto con questi costi poi di bonifica non ce lo potevamo risparmiare e aggiungo anche un'altra domanda perché mi sembra uno spreco veramente enorme e anche un danno alla salute della popolazione è tremendo e quindi mi fa molta rabbia questo e a questo punto ti chiedo come è cambiata la sensibilità rispetto ai temi di economia circolare negli ultimi trent'anni in Italia e cosa ha giocato un ruolo così importante in questo cambiamento se c'è stato un cambiamento allora negli ultimi allora noi negli ultimi trent'anni abbiamo ci siamo resi conto di di quanto al di là del del problema Ethernet e il problema mianto ci siamo resi conto di quanto abbiamo contaminato la nostra la nostra nazione perché noi negli ultimi trent'anni abbiamo cambiato due leggi ambientali la la 90 la il DL 92 del 97 cosiddetta legge ronchi che è stata in vigore appunto dal 97 fino al 2006 quando poi è uscito il testo unico 152 che è tuttora in vigore ecco nell'arco di questi anni quindi dal 97 al 2006 e 2022 ci siamo resi conto che abbiamo fatto tantissimi danni ambientali e la cosa che mi faceva più arrabbiare è che i costi per andare a bonificare e comunque a rendere queste aree fruibili erano altissimi erano talmente più alti ma di centinaia di volte rispetto al fatto di averle contaminate perché se noi noi in Italia abbiamo abbiamo una bruttissima abitudine che è quella di non programmare noi non pianifichiamo niente e quindi non avendo pianificato nulla dal costruire al rimuovere al finire un'attività noi abbiamo lasciato che nel mezzo di queste tempistiche tutto andasse un po' un po' un po' cosino un po' alla giornata e questo ha creato tantissimi problemi e ci è costato ancora di più ma tant'è che infatti in Italia ci sono tantissimi siti contaminati penso che a livello nazionale di SIN siti di interesse nazionale ce ne siano 146 ma probabilmente mi sbaglio per per difetto che sono in fase di bonifica da decenni e non sono ancora terminati perché i costi sono talmente alti che preferiscono mantenerli congelati fra virgolette per non spendere tanti soldi io vi dico una cosa in Italia le bonifiche ambientali sono viste come costi non sono viste come investimenti ed è questo uno dei delle cose che ci differenzia per esempio con altri paesi europei Germania per esempio nel e come si fa come si fa scusami Carlo a trasformare questa passività questo costo di legato alle bonifiche in un attivo in un guadagno perché oggi un altro problema è quello del cosiddetto greenwashing cioè di aziende che per darsi un un'apparenza di sensibilità rispetto ai temi ambientali fingono di aver adottato certi protocolli ma in realtà è poca roba quindi come si fa a integrarlo all'interno della nostra economia allora riuscire ad integrare allora innanzitutto bisogna capire che le bonifiche di siti industriali come quello della fibra di Bari sono iniziate tantissimi anni fa e hanno avuto un percorso legato alle normative che le hanno autorizzate e quindi è molto difficile in questo momento pensare di riconvertire quelle aree in aree fruibili Bari sta facendo questo l'idea di questo parco ma per esempio Bari non è ancora stata data l'autorizzazione di fine bonifica che che se ne dica la bonifica non è conclusa non ha un certificato di avvenuta bonifica perché pare che le acque di falda siano contaminate proprio da contaminanti che abbia che hanno origine dalla fibronit per cui tecnicamente se anche le acque non sono bonificate la bonifica non c'è non non è stata completata e quindi immaginatevi che tutto questo percorso che è stato legato alle vecchie autorizzazioni oggi è fra virgolette monco di tutta la parte legata alla sostenibilità ma all'economia circolare perché per esempio se oggi dovessero autorizzare la bonifica di uno stabilimento industriale una volta fatta la bonifica i materiali che compongono le strutture se sono bonificate possono e certificate possono essere riutilizzate per fare qualcos'altro butto giù i muri di cemento armato col cemento se è bonificato lo ritrituro e faccio cemento ancora per essere riutilizzato in un processo di economia circolare per fare qualcos'altro purtroppo in questo momento autorizzazioni date ultimamente negli ultimi anni a grandi complessi industriali per la dismissione degli impianti e la bonifica delle aree sono veramente probabilmente non ce n'è e quindi capite che il legare l'economia circolare scusa il concetto di economia circolare a queste vecchie bonifiche è praticamente impossibile per quanto riguarda invece il greenwashing è un è un tema che è molto attuale ed è molto legato non tanto all'economia circolare ma tanto alla sostenibilità ambientale perché perché in questo momento essere tra virgolette sostenibili apre tutta una serie di porte che fino a ieri erano sbarrate mi viene in mente il PNRR dove anche Bari la fibra di Bari ha sviluppato il progetto nuovo con i quatrini del PNRR a livello europeo quindi le piccole e medie imprese in questo momento e anche le grandi imprese stanno facendo stanno comunicando qualcosa che in realtà non stanno facendo ormai diventa se voi ci io mi diverto a volte perché probabilmente sono baccato in testa ma mi diverto a volte ad analizzare le pubblicità che ci sono dove il 98% inseriscono la parola sostenibilità perché se no non va bene che hanno poi dei processi al loro interno che sono totalmente insostenibili dal punto di vista ambientale e l'errore che noi stiamo compiendo in questo momento è che ci stiamo riferendo sempre sostenibilità uguale ambiente in realtà non è così sostenibilità vuol dire sostenibilità a livello economico a livello sociale e a livello ambientale per cui diffidate sempre quando sentite noi stiamo siamo molto bravi stiamo compensando nostra produzione di CO2 piantando alberi ok perché in realtà questo è puro greenwashing perché primo piantare alberi è vero fa bene fa benissimo ma un albero per assorbire da CO2 ci impiega sei anni e in quei sei anni lì emette CO2 non l'assorbe quindi non non è il piantare l'albero è il gestire c'è la foresta che si vuole che si vuole fare e questo è diventa un un lavoro complicato ha un costo e quindi spesso e volentieri ha la domanda ma la foresta che avete fatto da chi è gestita è ma insomma è gestita dall'associazione Picco Pallino ok purtroppo noi siamo in questa in questa situazione parlare di greenwashing diventerà un un tema molto caldo in futuro anche perché le persone quindi i i consumatori cominciano a essere un po' più informati di che cos'è il greenwashing di che cos'è la sostenibilità e di come la sostenibilità deve essere interpretata un tema molto caldo come è stata molto calda finora quest'estate nel 2022 e come immagino che sarà fino fino al termine sì anche se anche se io sto diventando un terrapiattista nel senso i cambiamenti climatici ci sono sempre stati l'evoluzione del nostro pianeta ha sempre avuto delle grandi oscillazioni di clima il problema che io vedo in questo momento è innanzitutto ieri parlavo con un amico che abita a Torino e mi diceva qui a Torino si muore ci sono 40 gradi in città cavolo questi cambiamenti climatici sono veri ok poi mi ha detto mi si è ero fermo al semaforo mi si è affiancato un SUV e praticamente mi ha bollito dalla parte del guidatore perché emetteva calore incredibile quindi è vero che ci sono i cambiamenti climatici ma è vero anche che le nostre città in questo momento sono delle isole di calore sono progettate talmente male macchine abitazioni strade immaginatevi una strada asfaltata più volte dove ci batte il sole e diventa diventa un emittente di calore fino alla notte perché lo rilascia pian piano perché le vecchie strutture le vecchie strade erano fatte in pietra perché la pietra non assorbe calore semplicemente è vero c'è caldo ma non assorbe calore un asfalto rilascia calore anche nelle ore notturne secondo me tutti questi come dire attenzioni devono essere collegate perché è facile dire i cambiamenti climatici non sto dicendo che non ci sono però quello che noi adesso stiamo vivendo è che all'interno delle città si sta morendo non tanto di caldo non tanto per il cambiamento climatico ma perché la città stessa è un'isola di calore e voi avete voglia di mettere piante ma non c'è una progettazione nuova che fa diventare queste isole di calore delle isole di non calore beh Carlo a parte chiaramente il problema del caldo che ci affligge tutti purtroppo noi che viviamo in città e poi da qui derivano i classici servizi di studio aperto sugli anziani e sullo stare a casa alle ore più calde della giornata io credo ci siano anche problemi più concreti legati a questo come per esempio la siccità di cui si è parlato tanto ultimamente e quindi la mia domanda è questa cioè la questione del punto di non ritorno della soglia dei più due gradi centigradi è è una cosa reale cioè come va gestita ma sì certamente che noi siamo ad un punto ad un punto critico nel senso come dicevo prima la terra ha una serie di eventi nella nella sua vita che ha cambiato il clima noi ovviamente ci stiamo mettendo del nostro ci stiamo mettendo il carico da 90 perché stiamo costruendo e progettando in modo sbagliato e dobbiamo assolutamente cercare di comprendere che stiamo progettando in una maniera sbagliata finché noi non capiremo questo andremo avanti a produrre CO2 andremo avanti a produrre calore ci avvicineremo a questi due gradi ma sì probabilmente sì si innalzeranno si scioglieranno i ghiacci sì probabilmente sì cosa possiamo fare dobbiamo cambiare davvero in modo repentino il nostro modo di produrre e progettare le cose le cose io intendo tutto tutte le cose dalla stampante al computer ai libri alle sedie gli scaldabagni tutto perché nella modalità con cui stiamo progettando oggi che non è vero non è assolutamente vero che noi stiamo innovando la progettazione l'innovazione è lo zero zero virgola qualcosa ma il modello che stiamo utilizzando ancora di produzione e di consumo è il modello lineare non è il modello circolare quindi abbiamo una serie di cose da fare molto velocemente ma molto velocemente che partono tutte dalla progettazione dalla famosa eco progettazione immagino che però questo sia sia a livello teorico mentale che a livello pratico uno sforzo enorme per l'animo umano e per tutta l'umanità in genere ma certo quindi la mia domanda è questa cioè fanno bene oggi divulgatori a mettere fretta a mettere paura alla gente oppure si va a creare soltanto un effetto panico allora oggi la divulgazione ambientale come la divulgazione su tutto è incentrata sulla paura cioè chi parla di ambiente parla di cambiamenti climatici disastri ambientali e quant'altro ma non va mai a parlare di quello che in realtà bisogna cambiare per modificare gli eventi io spesso quando faccio il podcast mi trovo a parlare con i miei ospiti non tanto di io infatti non ho mai parlato di cambiamento climatico perché no ho parlato una volta di cambiamento climatico perché come dici tu questa questi divulgatori stanno creando talmente paura che i ragazzi cominciano a avere una sindrome che si chiama sindrome d'ansia da cambiamento climatico cioè sono spaventati e io ne ho parlato in una puntata del mio podcast ma perché sono spaventati perché noi che divulghiamo che parliamo di ambiente non dobbiamo solamente dare delle evidenze è ovvio che c'è un cambiamento climatico e che gli eventi atmosferici sono sempre più forti ok ma la correlazione fra l'evento forte e le emissioni di CO2 è stata tirata per i capelli per esempio perché perché è vero che noi emettiamo CO2 ok e il problema non è tanto emettere CO2 il problema è togliere la parte che utilizza la CO2 cioè noi parliamo sempre della CO2 come un materiale brutto a CO2 in realtà non è così in realtà io tutte le mie conferenze le apro con una slide dove la CO2 è un alimento per le piante perché le piante si alimentano di CO2 ed emettono uno scarto guarda caso che è l'ossigeno guarda caso quello che serve a noi per stare in vita ok anche questi paradigmi devono essere cambiati cioè demonizzare la CO2 è ok può avere anche un senso ma se poi noi non capiamo che la CO2 è l'alimento base per la creazione dell'ossigeno stiamo dicendo un stiamo raccontando un film che è come dire a metà un solo binario no? Sì e parlando di film a questo punto poi torniamo da te Carlo io andrei dal nostro Giacomo Giacquinto per vedere se esiste una filmografia sulla questione Eternit e in generale qualcosa che ci possa aiutare a farci un'idea su quello che è il cambiamento climatico e su come approcciarci a questa cosa qui allora io innanzitutto ringrazio il nostro ospite perché ha sollevato delle questioni interessantissime io poi sono molto sensibile al tema ambientale credo che sia un male per il momento da estirpare perché la situazione è ingestibile basti pensare alle temperature di questi giorni abbiamo già toccato io il computer qui davanti e c'è scritto 32 gradi inoltre il tasso di umidità è schizzato alle stelle allora per quanto riguarda invece i film legati a questa tematica beh per l'Eternite abbiamo un posto sicuro molto bello ve lo consiglio che tratta il caso dell'Eternite di Casale Monferrato di Francesco Ghiaccio quindi un grandissimo regista troppo spesso sottovalutato tra i protagonisti c'è Marco D'Amore il Ciro Di Marzio di Gomorra che tutti conoscono mentre per quanto riguarda l'ambiente che è un altro tema che Hollywood negli anni sta cercando di utilizzare anche per sistemi di sensibilizzazione abbiamo Before the Flute punto di non ritorno del 2016 dove c'è Leonardo Di Caprio come voce narrante il documentario discute con alcune delle persone più influenti della Terra abbiamo Elon Musk Barack Obama Papa Francesco John Kerry parlando proprio del cambiamento climatico e di cosa si possa fare per migliorarlo poi abbiamo molto bello che ha vinto addirittura all'Oscar per il miglior film documentario una scomoda verità del 2006 di sua maestà Al Gore che tra l'altro è l'ex vicepresidente dell'Eda Clinton quindi una certa notorietà in questo campo che fa luce sugli effetti del riscaldamento globale proprio sui cambiamenti climatici e 11 anni dopo nel 2017 uscì il secondo film riprendendo gli stessi argomenti ma con un nuovo light motive ovvero da quel film del 2006 che cosa è cambiato è migliorata la situazione no è peggiorata e ce lo spiega ancora Al Gore ma quello che vi consiglio di vedere almeno 6-7 volte per la bellezza dell'immagine per la bellezza degli argomenti è una vita sul nostro pianeta recentissimo del 2020 con il divulgatore scientifico secondo me più bravo e anche più anziano della storia che è Sir Attenberg 95 anni quindi un'età considerevole per spiegare questo fenomeno che racconta proprio quello che sta accadendo all'ambiente a causa del riscaldamento globale bellissimo ve lo consiglio è davvero un documentario straordinario io aggiungo anche riguardo il caso Eternit una famosa puntata di Bluenot che tutti ormai conoscerete e invece se vogliamo rimanere sempre in ambito italiano riguardo il problema ambientale abbiamo un bellissimo documentario realizzato da Barbascura X per Amazon Prime che si chiama Infodemic e che trovate tra l'altro gratuitamente in versione integrale anche su YouTube e abbiamo parlato di Elon Musk l'ho sentito citare da Giacomo quindi io per quello che riguarda la nostra domanda finale di rito al nostro ospite vorrei chiedere a Carlo cosa pensi di Elon Musk e dell'ottimismo che ha dimostrato anche recentemente nei confronti del problema ambientale secondo te il cosiddetto terraforming cioè creare ambienti simili alla terra ma su altri pianeti colonizzare altri pianeti può risolvere i problemi dell'umanità o è soltanto un sogno ma guarda Michele io condivido il l'idea di scoperta di viaggio che Elon Musk e altri hanno rispetto a trovare altri luoghi dove andare a vivere dove l'umanità potenzialmente può andare a vivere ma io francamente mi concentrerei sul risolvere il problema qua sulla terra perché da 30 anni a questa parte dove 30 anni perché si comincia a parlare di climate change di ambiente in maniera un po' più sistemica le cose non sono cambiate in meglio anzi sono peggiorate e peggiorate di brutto quindi al di là di tutte queste manifestazioni molto blasonate che sono la coppia che anche recentemente c'è stata dove poi fra le altre cose si esce con una serie di indicazioni che vengono sempre disattese io mi concentrerei davvero sul risolvere il problema qua sulla terra perché in questo momento al di là del cambiamento climatico in sé noi dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento da umani rispetto alla terra perché la terra è un essere vivente come lo siamo noi né più né meno e finché non cominciamo a capire che la terra è un essere vivente e non deve essere più sfruttata perché in questo momento è davvero è come se nel nostro corpo ci vengono scavate buche ci vengono rotti gli arti e quant'altro noi non riusciremo mai a salvare sia il nostro pianeta ma andare con la mentalità giusta su un altro pianeta perché se anche dovessimo trasportare degli esseri umani su un altro pianeta con la mentalità che abbiamo adesso non cambieremo niente e quindi io mi concentrerei sulla sulla terra e sull'essere umano in modo da cambiare il suo atteggiamento e poi forse ne riparlerei di qualche altro pianeta di qualche altro esopianeta che può accoglierci sono d'accordo con te Carlo sono parole molto sagge e quindi io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per averci aiutato a tenere la luce accesa su questi argomenti grazie a voi per per l'invito e davvero complimenti per il vostro lavoro grazie grazie mille e ringrazio come sempre anche il nostro Giacomo Giacquinto per essere stato qui con noi grazie a tutti voi grazie grazie Carlo grazie una bellissima puntata grazie mille grazie e allora io e Giacomo vi salutiamo per qualche settimana nel frattempo vi ricordo se volete rimanere in contatto con noi c'è il gruppo telegram in cui commenteremo sicuramente anche questa puntata e ci sentiremo durante il proseguo dell'estate e soprattutto se vi è piaciuto questo episodio potete lasciarci una recensione se ci ascoltate su Spotify o su Apple Podcast e detto questo io vi auguro un buon mese di agosto e vi raccomando di non spegnere la luce